Apporta evoluzione all'individuo. Perché tutto va sempre per il meglio? Commento. Perché tutto procede per legge divina per il meglio, sia nella vita individuale, sia nella vita collettiva. Azzardiamo un esempio. Molti vivono esistenze che sembrano cristallizzate e alcuni dicono quello che vive a fare. Ebbene, anche se la sua cristallizzazione è reale, la sua vita, che appare come non vita, apporta evoluzione all'individuo. Già nel piano fisico e molto di più nella meditazione post-mortem, quell'individuo trarrà dalla sua cristallizzazione la forza per continuare ad evolvere.